Il pianista Fausto di Cesare ha ultimato la sua prova. Scende ora in campo il pianista Francesco Maria Trabucco che presenta la sonata in si bemolle maggiore opera 22 numero 11. La sonata in si bemolle maggiore fu composta tra il 1799 e l'estate del 1800. Beethoven aveva 30 anni e quest'opera viene considerata come quella che chiude definitivamente il periodo giovanile delle sonate per pianoforte. Beethoven la considera ben riuscita come scrive in una lettera all'editore Hoffmeister. Tuttavia essa non è tra le sonate più eseguite pur mostrando una vigoria, una serenità e una forza poetica del tutto degne della grandezza del maestro. La sonata in si bemolle maggiore è l'undicesima delle 32 sonate e porta la dedica al conte Johann Georg von Braun, un nobile di famiglia irlandese che era figlio di un Feldmaresciallo di Caterina II di Russia e degli stesso al servizio dello zar. Ma il conte von Braun veniva spesso a Vienna, dava numerosi trattenimenti musicali e a questi lo stesso Beethoven, non ancora colpito dalla sordità, partecipava come pianista improvvisando secondo il costume di allora. Al nobile protettore Beethoven dedicò anche altre opere tra il 1798 e il 1803. Colpisce di quest'opera la vigoria dell'allegro combrio iniziale. Il secondo tempo, ad agio con molta espressione, si impone per la sua ricchezza melodica. Il minuetto successivo e il rondò finale sembrano essere invece un ultimo baldanzoso omaggio di Beethoven alle immagini musicali del settecento ormai concluso. Bene, tocca ora al pianista Francesco Maria Trabucco. Francesco Maria Trabucco è nato a Leivi, Genova nel 1946. Ha studiato pianoforte e organo al Conservatorio Paganini di Genova, diplomandosi col massimo dei voti e la lode. Attualmente sta completando gli studi di composizione. Prima ancora di diplomarsi, vinse nel 1964 il concorso nazionale pianistico di Genova. Classificatosi ai primi posti in importanti rassegne, per alcuni anni si è dedicato anche alla musica da camera, formando il trio di Genova e suonando in duo col fratello Mario, violinista. Dal 1965 è organista titolare e maestro di cappella della Cattedrale di Chiavari. Trabucco eseguirà ora la sonata in si bemolle maggiore opera 22. I tempi sono Allegro con brio, Adagio con molta espressione, Minuetto e Rondò. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.